Siamo con Fabrizio Bonavia, responsabile trail per ASICS, che ci presenta la nuova Fuji Trabuco. Fuji Trabuco, modello più rappresentativo della gamma trail di ASICS, che con convoglia i due principali focus della disciplina, per noi comfort e stabilità. È caratterizzata, partendo dalla suola, una suola studiata e ideata per avere quello che è il massimo grip e stabilità. Massimo grip nella salita dovuta all'ottima performance degli incavi di flessione, che permettono quindi la miglior rampata. Suola piatta per dare la maggior stabilità in fase di appoggio. È una lamellatura studiata per poter avere la miglior grip e stabilità, sia in salita che in discesa. L'inter suola è in solite, altamente reattiva e leggera. Il comfort è dato dagli inserti del gel ASICS nella parte posteriore e anteriore della scarpa, unitamente a Rock Protection Plate, che è un sistema di protezione dell'avampiede da agenti esterni che si possono trovare accidentemente sul percorso. Per quello che riguarda l'upper, abbiamo un mesh traspirante rinforzato nei punti di maggior abrasione o possibile co-contatto con agenti esterni. Una con conchiglia vista in alleggerimento ha miglior contenimento del tallone e l'alleggerimento fa sì che la scarpa sia più leggera. Siamo a scarpa che gira sui 340 grammi. Per quello che riguarda l'allacciatura, abbiamo questa struttura termoplastica che avvolge il collo del piede e permette quindi una ottima stabilità del piede nel complesso della scarpa. La trabucco viene fornita in due varianti, con Duomax, tradizionale e storico antipronazione di ASICS, oppure neutra. Ultima cosa sull'upper, l'allacciatura prevede sulla linguetta la taschina per riporre i lacci per la corsa.